Ciao, sono Giovanna, la Masterpix Nays, e oggi voglio presentarvi lo smalto semipermanente Monoclear. Come uno smalto tradizionale necessita di essere applicato su una base coat trasparente e protettiva e sigillato con un top coat affinché venga perfettamente isolato, così lo smalto semipermanente ha bisogno di una base semipermanente e di un top semipermanente. Il Monoclear è l'unico prodotto che funge sia da base sia da top. Lo smalto semipermanente Monoclear ha una bassissima viscosità ed è caratterizzato dal fatto di essere autolivellante e molto flessibile. Ciò gli permette di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di unghia naturale. Garantisce un'estrema adesione e una sublime lucentezza. L'applicazione deve essere effettuata con la massima attenzione nel non toccare le cuticole per garantire una miglior tenuta del prodotto e prevenire scollamenti o difetti prematuri dell'unghia finita. Il prodotto polimerizza il lampada a 36 W in 3 minuti, sia che si utilizzi come base, sia che si utilizzi come top. Qualora si volesse utilizzare una lampada di inferiore potenza, bisognerà aumentare i tempi di esposizione in proporzione alla potenza della lampada che si utilizza. Lo smalto semipermanente Monoclear si presenta in un'elegantissima boccetta nera lucida con il pennellino annesso di alta qualità. Come si applica lo smalto semipermanente Monoclear? Vediamo insieme i passaggi. Lo smalto semipermanente Monoclear va applicato sull'unghia naturale precedentemente ruvidita con la nostra lima di preparazione. La giusta preparazione dell'unghia per lo smalto semipermanente richiede pochi secondi e viene considerata terminata quando la superficie dell'unghia risulta tutta opaca. Questo passaggio è fondamentale in quanto per poter aderire perfettamente all'unghia naturale lo smalto semipermanente necessita di una superficie ruvida ed opaca. Il passaggio successivo è sgrassare l'unghia naturale con un quadratino di cotone pressato imbevuto di Nain Special Cleaner. Applichiamo uno strato leggerissimo di smalto semipermanente Monoclear come se fosse uno smalto e passiamo in lampada per 3 minuti. Dopodiché applichiamo il colore dello smalto semipermanente che più si preferisce tra quelli proposti ed esponiamolo in lampada per 3 minuti. Per intensificare le tonalità di alcune colorazioni stendiamo pure un secondo strato di prodotto catalizzandolo in lampada sempre 3 minuti. Il lavoro può considerarsi concluso una volta che viene applicato nuovamente lo smalto semipermanente Monoclear come se fosse sicillante e lo catalizziamo in lampada per 3 minuti. A questo punto eliminiamo lo strato di dispersione cioè lo strato appiccicoso sempre con il nostro quadratino di cotone imbevuto di Nain Special Cleaner. Il lavoro è finito. Se sei interessata all'acquisto di questo prodotto aggiungilo pure nel tuo carrello e naturalmente se hai bisogno clicca pure la chat in basso a destra del tuo schermo ed un operatore sarà a tua disposizione per aiutarti nella scelta dei tuoi acquisti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie per la visione!